non ho mai perso una pro per platinum in vita mia ne ho perse 4 in un giorno mi sono rotto il cazzo mi sono rotto le palle la bontà del maestro mi avete visto più calmo del solito vero? vero che mi avete visto più calmo? ora mi vedrete il triplo più tiltato perché con la calma non si ottiene un cazzo con la mentalità positiva almeno che porco dio non ti sia andato tutto bene nella vita non otterrai mai nulla porco dio entriamo in game con la nostra mentalità che ci ha contraddistinto a porco dio nel competitivo che ci ha fatto diventare i numeri uno entriamo in game con la nostra grinta con la nostra voglia di umiliare tutti quanti e stompiamo il server 1v9 triangolo delle brand muda mi spiace mate porco dio porco thanks morde thanks thanks morde thanks to prove me once again that your role role is astro broken but thanks to players like you it looks it looks balanced no il limone lì sotto si fa ovviamente con il limone sicuramente anche da p un pene oceano nooo oceano 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 cioè lo stai distruggendo così l'hai messo a pegola oceano sei giocata correttamente sei giocata soprattutto nelle giuste posizioni può ancora essere certo assolutamente la chiave della vittoria perché il grande rifetto è che hai giocato due team fight in posizioni scomodissime una in una stretto e in un choke point l'altro sotto la torre guardano qui su 5 che è in gauge signori si va avanti col follow up bella suprema di Gabbo ma lascia così scoperte le proprie backline i danni su Airo Gooby gli ad carry signori tripudio di uccisioni makers i colossi si rialzano altro uccisione su Gabbo 4 parito con passo tritato cancellato annientato nucleato ammazzato decapitato dio santo lapidato spari ve lo giuro subio one trick se non vinco tre game di fila maratona one trick gianna da mezzogiorno a mezzanotte porco dio ve lo giuro mi voglio rovinare mi voglio rovinare se non vinco tutti i game one v nine che soffrono per caso quando esci esci fatto bene eh certo questi qua davanti che sono dei abbastanza dei bastardi probabilmente sai a triple in bot grazie al cazzo raga gli ho dato 4 kill early game cioè non scherziamo una di carry che va 4-0 mica è un support porco dio se do 4 kill a qualunque champion in un ruolo dovrebbe fare one v nine dai 4 kill dai 4 kill ad upset in bot porco dio vedi come ti fa one v nine dai 4 kill a caps in mid dai 4 kill a yanquis in jungle dai 4 kill a ace force in top vedi come va 4-10 io cane dai 4 kill a buipo in top ti vedo serafin ti vedo ti vedo serafin ti vedo 4 kill a recress finisce a 4-0 20 finisce quadra kill per gubi makers mentre su a vabbè israel I have go ooooh eeeh eeeh no ancora fai profilo vabbè 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 sarei in smart Q sarei in smart Q britz altrimenti non si spiega 50% rate su trash a gold è la smart Q la smart Q sarà una stati plagio posso tentarvi con un Lucian ragazzi questo questi sono i game XD eccolo lì XD in chat questi sono i game questo è il maestro dio mio devastazione in tutte le lane umiliate un team intero alone dio mio oppure mi stava gustando GP grazie mille tuna with wings tonno con le ali grazie con che k mi traduci il tuo ultimo messaggio su twitch eeeh leggilo i'm a boomer mamma mia quando li ho visti tutti insieme ragazzi come il toro con il fazzoletto rosso il tovagliolo rosso del matador proprio mi ci sono lanciato senza pensarci eeeh fanculo oh aiuto 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 sono costretto a sfogarmi nel cibo io vi rendete conto a di un secondo ragazzi mentre è start visto che siamo ancora al 90% prendo un attimo una cosa un attimo Grazie a tutti.